Sì, sono contenta di aver verificato alcune cose che dovevo fare in questa gara, sono andate bene ed è venuto anche il record del mondo, quindi sono contenta. Bisogna avere voglia di vincere, che non è una cosa assolutamente scontata. Credo che il comune denominatore di molti atleti sia la voglia di fare bene più che di vincere. Quello viene poi sicuramente dopo e la ricerca sempre di qualcosa di più che possa dare soddisfazione. Non è stressante, è più stressante fare il record del mondo che non fare il mio lavoro. Le consiglio da sempre perché prima del lavoro comunque c'era lo studio e ho avuto la fortuna di crescere arceristicamente in un momento in cui mi potevo permettere di allenarmi un po' di più. Adesso vado avanti con quello che ho senza pensare di poter fare esattamente tutto quello che fanno atleti professionisti e basta. Sicuramente ho un pizzico di fortuna nel magari essere più pronta con meno allenamenti rispetto ad altri e basta. L'obiettivo principale è raccogliere i frutti di un lavoro e tornare a casa contenta col sorriso.